Avete riempito i manifesti con la formula con Giorgia l'Italia cambia l'Europa. Guardate, non è sbagliato, non è sbagliato, però è incompleta la formula. Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa in peggio! Fate questa giunta! Avete cambiato... Puoi richiamare il capogruppo? Che si contenga, grazie. Avete capo... Prego, collega. Prego. Non si sbracci il capogruppo, avrà la possibilità di replicare. Di che si preoccupa? Potrà raccontare... Prego conti. Potrà continuare a raccontare la sua visione edulcorata dell'Italia. Visto che ci siamo fermati, qui parla chi ha la parola. Quando uno ha la parola, parla. In questo caso, l'Onorevole Conte. Grazie, Presidente.